Entrami in onda qui su Play, siete sempre all'ascolto magari anche alla visione di RBA Radio e TV e vi ho detto dopo avervi raccontato già tante notizie, tra quelle più puntuali, insomma raccolte da quel fine settimana in cui noi non andiamo in onda, rispetto a Gaza e ormai sappiamo bene che Gaza non vuol dire parlare di un territorio e basta, ma vuol dire parlare di un massacro micidiale che ogni giorno ci racconta una nuova strage. Voglio proseguire, racconto staccandomi dalle notizie puntuali, quelle insomma relative proprio a quello che esce minuto per minuto, ora per ora, per fare invece una riflessione un po' più ampia rispetto a quello che sta succedendo a Gaza, non solo tra moltissime virgolette per quanto riguarda la popolazione di Gaza, o meglio insomma guardando anche a quello che vorrà dire il futuro a Gaza anche da un altro punto di vista. Mettiamola così, una ricerca realizzata da Greenpeace, disponibile sia sul sito di Greenpeace Italia sia ad esempio sul sito di Greenpeace International, rispetto all'impatto sull'ambiente che sta avendo tutto questo. Ne vogliamo parlare con Sofia Abbasso che è il Research Campaigner per pace e disarmo, appunto per Greenpeace Italia. E quindi intanto la salutiamo, ciao Sofia. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora è un tema un po' particolare e forse insomma una domanda che potrebbe sorgere spontanea, ma perché occuparsi di ambiente, perché occuparsi appunto dell'aspetto ambientale della guerra. So che questa è una domanda un po' ingenua perché insomma me ne sono occupato già diverse volte. In questi anni però voglio passare la palla a te, perché bisogna guardare anche a questo aspetto della guerra. Dobbiamo interessarci anche all'aspetto ambientale, in uno scenario di guerra, perché l'impatto ambientale dei conflitti si traduce prima di tutto in una minaccia alla vita delle persone che vivono in quel territorio, quindi andando ad aggiungersi alla devastazione già in corso della guerra. Come ha dichiarato la Relatrice Speciale delle Nazioni Unite sul diritto umano a un ambiente sano, una delle gravi conseguenze della guerra a Gaza è la massiccia violazione del diritto a un ambiente pulito, sano e sostenibile, che a sua volta rappresenta un grave rischio per la vita e per il godimento di tutti gli altri diritti. Quindi insomma, se vivi in un contesto in cui l'aria, l'acqua e il suolo sono contaminati, paghi un prezzo altissimo in termini di salute e di sicurezza alimentare, che sono già due diritti che a Gaza sono stati messi in ginocchio dai massicci bombardamenti e dalle restrizioni degli aiuti umanitari. Secondo i finding scientifici raccolti da Greenpeace, inoltre, la distruzione ambientale in corso a Gaza sta rendendo la striscia inabitabile anche per le prossime generazioni, quindi anche quando la guerra sarà finita, ecco perché quindi bisogna occuparsene. Sì esatto, chiaramente la devastazione puntuale, quotidiana, come vi raccontavo, è insomma qualcosa sul quale stare attenti, ma chiaramente non bisogna guardare anche qui soltanto, tra moltissime virgolette, ad esempio gli edifici distrutti, ma anche quando si parla di terreni distrutti, di falde acquifere inquinate, eccetera, eccetera, è tutto qualcosa che peserà enormemente sul futuro di chi vivrà qui. Tra l'altro aggiungo, tra parentesi, sperando che ci sia ancora qualcuno che vivrà da queste parti, perché insomma la tendenza sembra invece essere purtroppo un'altra. E quindi insomma, fatta questa premessa, da questa indagine, da questo rapporto di Greenpeace, che cosa emerge? Quindi insomma, quali sono le conseguenze ambientali più lampanti di quello che sta succedendo da quelle parti? Allora, insomma, in pratica che la guerra in corso a Gaza ha un pesantissimo impatto sull'aria, sull'acqua e sul suolo e su tutti coloro che ne dipendono, appunto come dicevo. Solo nel primo mese del conflitto su Gaza sono state lanciate più di 25.000 tonnellate di esplosivo, quindi l'area è contaminata da sostanze chimiche provenienti appunto da armi e dall'uso di massiccio di esplosivi, mentre l'esplosione delle munizioni al fossero bianco sta causando anche una riduzione della produttività dei terreni agricoli, può danneggiare tutta la vegetazione, quindi il degrado del suolo ha devastato la società agraria di Gaza. La distruzione delle fattorie, terreni agricoli, unite tra l'altro a 17 anni di blocco, ha causato una grave insicurezza alimentare, come dicevo anche prima. Nel maggio scorso è stato stimato che il 57% dei terreni coltivati di Gaza era danneggiato per la contaminazione da metalli pesanti e altre sostanze chimiche associate ai bombardamenti e si stima che circa il 70% della flotta peschereccia di Gaza sia stato distrutto, mentre il bestiamo muore di fame, quindi insomma poi non si può neanche mangiare più, neanche ai fonti alimentari e gli olivi vengono presi di mira deliberatamente. Anche le risorse idiche di Gaza sono state gravamente compromesse, perché le strutture di gestione delle fognature, delle acque reflue e dei rifiuti solidi sono collassate, con il risultato è che migliaia di tonnellate di rifiuti si accumulano in discariche informali, le acque reflue non trattate si riversano nel mare. In media, nell'aprile scorso, gli abitanti di Gaza avevano accesso a 2-8 litri per persona al giorno, quando gli studi ci dicono che la quantità minima di acqua pulita per aggiungere i livelli essenziali per la salute e l'igiene è di 20 litri per capita. Questo comporta anche il rischio di epidemie collegate alla contaminazione dell'acqua e alla presenza di cadaveri nelle strade, e mette quindi a ripetaglio migliaia di vite. Tutto questo mentre gli attacchi agli ospedali e il blocco delle forniture hanno paralizzato il sistema sanitario di Gaza. Quindi il risultato è che i palestinesi, soprattutto i più fragili, muoiono anche a causa di malattie infettive facilmente prevedibili. I prevenibili soprattutto. Ovviamente l'impatto ambientale... Prego, prego. Volevo solo dire che questo impatto ambientale, il conflitto che ho più concentrato ovviamente su Gaza, però non si limita alla siccia di Gaza, quindi colpisce anche i paesi vicini come Egitto, Giordania e Libra. Chiaro, chiaro, perché come si impara quando ci si occupa di ambiente e clima, i confini sono qualcosa che ha più a che fare con gli esseri umani, con le dogane e non tanto con l'acqua, l'aria che si muove. Chiaramente, no, volevo dire che insomma è uno di quei tanti elenchi, si stavi facendo uno di quei tanti elenchi che riguardano Gaza, per i quali a un certo punto ti vorrei fermare, perché insomma è davvero un peggio sommato a un peggio sommato a un altro peggio e invece sono contento, insomma sono convinto che invece si debba raccontare tutto nel dettaglio, anche per quanto riguarda tutto questo. Qualcosa che invece ha a che fare sì con la situazione locale, ma anche un po' con tutto il mondo, perché sappiamo che il cambiamento climatico funziona così, sono anche le emissioni di gas serra, anche queste vengono calcolate per quanto riguarda la guerra in corso. ogni guerra inquina moltissimo, quanto sta inquinando da un punto di vista di emissioni di gas serra questo partito? Allora, le emissioni causate da questa guerra sono impressionanti, la stima che è stata fatta è dei primi quattro mesi di guerra e si parla di oltre 500.000 tonnellate di anitine carbonica, il 90% delle quali attribuite proprio al bombardamento aereo, all'invasione terrestre di Gaza da parte di Israele. e si tratta di un'impronta di carbonio superiore a quella di molte nazioni vulnerabili al cambiamento climatico in contemporanea. Secondo, tra l'altro, uno studio ripreso dal Guardian, anche le centinaia di cargo americani che hanno trasportato bombe, munizioni e altre forniture militari verso Israele hanno contribuito a questo, diciamo, ammontare di emissioni di gas serra. Tra l'altro Gaza è già un'area vulnerabile al cambiamento climatico ed è inserita in una regione che si sta riscaldando a una velocità quasi doppia rispetto alla media globale, probabilmente anche a caso di tanti conflitti che ci sono. Oggi la striscia quindi di affrontare un ulteriore poggioramento delle condizioni a caso della guerra, si parla di un possibile aumento delle temperature di 4 gradi centigradi entro la fine del secolo, gravando quindi la precipitazione irregolare, le ondate di calore, la siccità, l'aumento delle temperature, quindi si può immaginare un impatto devastante soprattutto sui quasi 2 milioni di sfollati di Gaza già alle prese, appunto, come si diceva prima, con un accesso all'acqua insufficiente e un'assistenza sanitaria inadeguata qui. Insomma, anche da questo punto di vista non c'è limite ai peggioramenti che si sommano uno sull'altro. Non so se in tutto questo ci sia anche, diciamo, da parte di Greenpeace un aspetto, diciamo, propositivo, nel senso qual è l'ora, insomma, messi insieme tutti questi dati, messi insieme tutti questi numeri, che cosa chiede Greenpeace? Se secondo te arriverà mai il momento in cui i responsabili di questa guerra verranno, insomma, dovranno rispondere anche del danno ambientale, oltre che al danno umano? Allora, beh, Greenpeace, innanzitutto non c'è stato il fuoco immediato e permanente. Un embargo globale su tutta la vendita e trasferimenti di armi, la fine dell'occupazione illegale della Palestina, un passaggio costante e sicuro dei camion degli aiuti e anche l'accesso di investigatori e specialisti ambientali per condurre indagini sul campo. Come misura a lungo termine chiediamo una ricostruzione sostenibile, che quindi ci tratta sulla mitigazione degli impatti del cambiamento climatico, sulle politiche di resilienza, sul convergimento delle comunità e anche misure per ritenere, appunto, Israele responsabile dei danni inflitti a Gaza in violazione dei suoi obblighi internazionali. Perché le convenzioni di Ginevra poi viscono specificamente le azioni di guerra che causano gravi danni all'ambiente naturale e indicano che la distruzione ambientale intenzionale può costruire un crimine di guerra. Di fronte alla gravità dei danni ambientali in corso, a Gaza alcuni esperti già parlano di ecocidio. Il diritto internazionale richiede che Israele, in quanto potenza occupante di fatto, sostenga i costi della ricostruzione di Gaza. Quindi, per rispondere all'ultimo punto della domanda, non possiamo sapere se il governo israeliano sarà effettivamente giudicato anche per i danni ambientali, ma possiamo sicuramente chiederlo e auspicarlo. Esatto, esatto. Purtroppo, per quanto riguarda questo scenario, sappiamo che la domanda è più appesa che in altri, perché, insomma, i precedenti ci raccontano questo, purtroppo, però, insomma, chiaramente questo non ci deve fermare dal chiederlo, anzi, forse bisogna invece arrivare a chiederlo con maggiore forza. Insomma, nel corso di questa intervista, sostanzialmente, quello che abbiamo capito, forse un po' nobbietà, ma, insomma, non è che siano esattamente due piani diversi, la devastazione civile e la devastazione ambientale di un territorio, sono invece due elementi assolutamente sovrapposti e sostanzialmente due facce della stessa medaglia. Allora, il rapporto lo si può leggere in italiano sul sito di Greenpeace Italia, in originale sul sito, invece, internazionale di Greenpeace. Noi qua, chiaramente, non abbiamo potuto raccontare ogni singolo dettaglio, altrimenti ci avremmo messo troppo tempo. Ma intanto, grazie mille davvero, Sofia Basso, per questa nuova chiacchierata e alla prossima. Grazie a voi, grazie a voi, arrivederci. Grazie mille davvero, noi ci prendiamo adesso un momento con la musica e poi ci sentiamo per i saluti finali.